Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Octave Travel Sono andato a fare un combattimento 2, ho provato poi a prendere il bastone e ce l'ho fatta Mi fa tanto piacere, così almeno qui siamo a posto Andiamo in equipaggio a Mont, andiamo da lei, vediamo il nuovo bastone Che è questo, beh, decisamente meglio Un po' meno di schivata, però a lei non mi interessa la schivata Ma mi interessa sia l'attacco fisico che quello elementale Quindi vado, perfetto, gratis, va bene Poi andiamo a vedere cosa dice questo, costui, parliamo Di recente ho avuto l'onore di unirmi ai ranghi dei cavalieri ardenti In effetti anche mio padre era un cavaliere ardente che riposi in pace Purtroppo fu privato del suo mantello per avere disertato durante una battaglia Non posso credere che mio padre sia fuggito dal campo di battaglia Stordi, ecco, questo è quello che abbiamo ricevuto da dare Quindi gli odiamo E vediamo che dice Come dici? Hai incontrato un compagno di mio padre? I suoi compagni cavalieri nutrivano una profonda stima per lui Deve essere un errore Aveva conquistato la fiducia dei superiori e dei sottoposti Per non parlare dei comuni cittadini Da vivo mio padre si è sempre rifiutato di spiegarmi cosa accadde quando fu congedato dall'ordine Sono giunto perfino a insultarlo Gli dissi che aveva disonorato il buon nome dei cavalieri ardenti Ricordo ancora come mi fissò dopo quelle orribili accuse Rimase immobile e in silenzio Ma come ho fatto a non capire? Senza dubbio si verificarono circostanze che lo costrissero a disattendere gli ordini I cavalieri ardenti hanno il sacro dovere di proteggere i pellegrini che si radunano dinnanzi alla luce della sacra fiamma Sapevo che mio padre non li avrebbe mai abbandonati L'ho sempre ritenuto un gran duomo E non mi sbagliavo Ti ringrazio infinitamente Il mio servizio tra i cavalieri ardenti ha assunto una nuova prospettiva Nel corso delle mie missioni ai quattro angoli del regno Ricorrerò i passi di mio padre e cercherò di scoprire la verità sull'accaduto Chissà, magari ci incontreremo ancora A presto Oh porca vacca, dovevo vedere cosa aveva È un problema Ok Bene, adesso ho guardato Non aveva niente di che importante, c'era solo la sua storia Abbiamo saltato, mi dispiace, volevo leggere Vabbè, pazienza Niente, possiamo andare Io andrei a Sworky Perché c'è una cosa che dobbiamo fare Intanto vediamo qua se riusciamo a alleggerire il signoro Siccome ho livellato Adesso volevo andare un attimo a girare Per vedere se riuscivo a prendere qualcosa di più Un rispetto Prima Che in teoria sì Però vi faccio sapere Vado a fare un giro E ci vediamo fra poco Ok, questo qui riusciamo a prenderlo Perfetto Molto, molto buono Così almeno siamo a posto E guardo altre cose In teoria no Anche se qui dentro c'era qualcuno Però mi sembrava forse molto forte Se volete ci guardo Vi faccio sapere Quindi a dopo Esatto, non aveva niente Avevamo già preso Che vi ricordavo qualcosa del genere Allora vediamo questi qua Vado in giro e vi dico Provo con questa Che dovrebbe essere aumentata Però secondo me Ancora non ci siamo Ma ci provo Oh, ce l'ho fatta Il cerchietto Vediamo un po' com'è Questo cerchietto Beh, mi fa piacere Forse sarò più di 90 Per quello A sto punto Il cerchietto a lei Ah no, abbiamo usato il tupè Oddio Oddio, oddio, oddio Perché quello che abbiamo noi adesso È meno Questo dà più difesa fisica Dà più PA massimi Cavolo E più difesa elementale Invece del tupè Il tupè cosa faceva? Faceva meno Beh, io sono contento A sto punto Vediamo un po' Se C'è qualcosa di meglio Sì e no Tacco elementale Ci interessa poco Va bene Sono soddisfatto Perché almeno Finalmente Abbiamo Senso Ha senso fare quello che faccio Vediamo un po' Questo mi sembra Fatti di no Vabbè Vado in giro E come al solito Vi dico se c'è qualcosa Ok Non c'era niente Quindi andiamo Un attimo A svarchi Qua A svarchi Perché c'era Un'armatura Che ci tenevo a prendere E c'era una cosa Che devo fare Allora Vediamo un po' Intanto C'è boia qui Qui Vediamo Se possiamo fare qualcosa Questa Sì al 100% E questa Sì al 100% Buono Beh è già qualcosa Voi cosa dite no? Andiamo a vedere qua Questa è la locanda Non penso proprio Vediamo un pochino Se possiamo fare qualcosa Esattamente Sì Ripiste di pipì Ottimo Vedete che Nivellare ha avuto Un buon effetto Vediamo un po' Dobbiamo Così almeno Prendiamo un po' di roba Così siamo a posto Ci posso provare Ma no Per il momento no Preferisco andare più sul sicuro A meno che non sia qualcosa Veramente Di grosso Allora dico di sì Ok Vediamo se c'era qualcosa Qui Può darsi di sì Ma penso proprio di no Comunque ci provo Questo sì Questo mi fa piacere E questo aspettiamo Va bene Altro che c'era da fare Non mi sembra Per il momont E andiamo Se non mi ricordo Questo l'ho fatto Sì Questo lo devo fare Vedete Nivellare ha avuto Oh salve Il suo ok Insomma Allora vediamo un po' Eh Potrei provarci Però Ah stavo dicendo Mi serve Assolutamente Quale dell'emporio Qui sta Il A parte l'arco Che era buono Mi piaceva Ma ce n'è uno meglio ancora Che prenderemo Questo Perché questo Ha La nostra Hanit Gli dà Una difesa fisica 50 in più Quasi 48 47 99 Non so Vabbè E comunque Difesa elementare E' altissima E' tanta Tanta schivata Quindi Lo vorrei prendere Se mi permettete Sì Sì Vai E siamo A postolo Così abbiamo Adesso questa Poi ci pensiamo Cosa mettere Anche se Eh Non sarebbe male Anche mettergliela lei Scusate Ma Non ho i soldi E puttopo E' quello il problema Non ho i soldi Non ce li ho i soldi Ci vuole tanti soldi C'erano 6.000 Cioè Volendo ce li ho Perché posso vendere Delle cose Tipo queste monete qua Questo Questo Questa e questa Ci facciamo 4.500 5.000 E qualcosa E allora Sì ce la potrei fare Però voglio tenerlo Per l'emergenza E se Mi dovesse servire qualcosa Allora Vado Per finire Tenere sempre da parte Ste cose Vediamo cosa c'è qua No Ci posso credere Che sia così alto Oh porca vacca Eh Qui c'era Una persona Un personaggio Che Allora Piedi tutto Salviamo Vai Eh Sì Grazie Doviamo prendere La signorina O il signore Insomma Non ricordo se è un signore O una signorina Insomma Quella questo qua Qui Perché ci serve Subito Allora Per fare una quest Intanto Lo alleggeriamo un attimo Perché nel viaggio Andare pesanti Non è il caso Lo facciamo per lui Vediamo un po' Perfetto Perfetto Ottimo Mi sembra Che sia andata Piuttosto bene Vediamo un po' E qui Sper C'è Non se la sa Insomma Casino Come al solito Quindi è rimasto Solo quello Rimasto solo questo E questa qui Dovremmo dirle Di condurci Quindi Sì Grazie E la sostituiamo Sì Perché per il momento Ci serve Per fare altro E quindi La prendiamo Perfetto Possa la fiamma Guidare il tuo cammino Permetti Di accompagnare Di accompagnarti Cara sorella Perfetto E questa è andata bene Adesso andiamo A gran masso Perché è qui Che dobbiamo Dirigerci A fare la cresta Eh Sì Insomma Questa è una Di quelle che faremo Andiamo giù di qua Su di qua Mi sembra E qui c'è quel marito Che faceva di tutto Vi ricordate Ok Parliamoci Mio dorato Tesoro Stai bene? Stai bene? Cioè Insomma Esclamativo Ma perché Ti sei rischiata A metterti in viaggio Amore Mancano solo poche settimane La fine dei lavori Perdonami Avevo una sorpresa per te E non ho resistito Un paio di scarpe Perbacco Sono leggere Come una piuma Ma robuste E di pregevole fattura Ho chiesto al calzolaio Di confezionale Su misura Ho pensato Che ti sarebbero State utili Al lavoro Sapevo Che le avresti apprezzate Ed ero ansiosa Che le avessi Sai sempre Come rendimi felice Tesoro E per i detti Sana e salva È la mia gioia Più grande Grazie per il regalo Mi servivano proprio Ottimo Mamma mia Quante belle cose Adesso andiamo a vedere Un po' di Inventario Le varie noci Che abbiamo Perché ne abbiamo diverse Allora Cosa abbiamo Abbiamo questa qui Che aumenta I pv massimi E la metterei A Eh A chi la metto Forse a lui Perché è quello più utile Anche se lei Che ne abbia molti Mi serve Perché fa cure Fa cose varie Quindi mi serve in forma È fatica A dire cosa A chi Adesso non è tanto Però insomma Poi Vediamo un po' Questa qui Attacco fisico Questo ci devo ancora pensare Questa è la difesa fisica E ci devo ancora pensare Questo è l'attacco elementale Ma neanche a pensarci In che mette l'attacco elementale Vai Perfetto Per il resto Non abbiamo nient'altro Quindi siamo a posto Eh Serebbe bello Prendere un po' di cose Anche qua Perché ci sono di belle Ma per il momento Non posso E quindi Ho girato un po' Per vedere se potevo fare qualcosa Per il momento no Quindi andiamo a Sintilia E Dov'è il cavolo È di qua E proseguiamo il nostro viaggio E quindi andiamo Tutto quanto Ovest Andiamo un po' Andiamo a fare un po' Di viaggio A piedi Ci dirigiamo Di ovest Perfetto Allora Vediamo poi se l'abbia già fatto Ok Queste sono le debolezze Le ho fatte vedere Se trovo dei nuovi Le faccio vedere Se non salto Il combattimento Perfetto Ho vinto Alla grande anche Ottimo Ottimo Cominciamo ad essere Abbastanza potenti Salviamo Così siamo a posto Benissimo Andiamo verso il nord Di qua E giriamo qua Perfetto Oliva della vita Per carità Buona C'è manetto Il combattimento E dice che ci facciamo Ma è tutte cose nuove Cioè vecchie Ottimo Data Perfetto Piano piano Saliamo Facciamo tutto Opla Andiamo di qua Andiamo giù E qui Ho 11 Bene Bene Mi fa piacere Oh cavoli E vabbè Eccoci qua Ce l'abbiamo fatta Bene bene Andiamo pure avanti Spero di non annoiarvi Così tanto Questi combattimenti Sono già stati fatti Più e più volte E vediamo Ho una zona Un pochino Più Come posso dire Oh cosa c'è qui Vediamo un po' Oliva della vita Mostra Oliva della vita Qui c'è qualcuno di nuovo Lo guardiamo insieme Allora Cosa possiamo fare Beh E sarebbe bello Qualcosa Da massa Vediamo un po' Curso le malattie Infligge danni Elevati a un nemico Avrilene è un nemico Attacca tutti i nemici Con ascia Vediamo Vai Però Mi ha fatto di male Allora Cominciamo Con le piccole cose E questo è andato Poi Vediamo Un po' Che volevo provare Un po' A prenderli tutti E vedere se Con qualcosa Qualcuno è andato Ok Giusto per scoprirle Capite E questo Perfetto Ottimo Mi sei piaccionato Niente Niente Non posso fare altro E vabbè Adesso piano piano Scopriremo Queste Debolezze Quali saranno O meno Intanto andiamo avanti Benissimo Ok Opla Perfetto Una servatina La farei Che non si sa mai Spero posso Mi cura Adesso non mi sembra Il caso Vediamo come si è messi Ma Oh Proprio mi scena mosso E qui c'è Il gonnellino Allora E Vediamo Un po' Eh Sarebbe interessante Scoprire Un po' Di debolezze Ma è fatica Ok Questo è niente Questo Ok Lascia Non mi piace Per un cazzo Lo sai Allora te lo dico Proprio Ok Perché sono tutti Diversi Questi Quindi Queste le abbiamo provate Proviamo Questo Perfetto Questa è andata Grazie Poi Vediamo qui Niente Questo non è andato Adesso li provo Piano piano Uno per uno Vediamo un po' Cosa succede Ok Questo L'abbiamo Solo ucciso Allora Intanto Questo Non mi piace Lo mettiamo giù Così un attimo Perché Non vorrei che Mi facesse malo Ma bravo Vedete L'armatura Che cosa Gia 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 Che è stata Quindi io Proverei con questo Perché sono tutti Diversi La terra due Terra tre Terra due Vai Niente Niente Questo sì La terra due È debole quello Ok Proviamo anche questo Niente Vuoto Vuoto E quindi Vai Buono Buono Mi sei piaccionato Ok Vai Perfetto È andata Abbastanza bene Possiamo proseguire Tranquillamente Ma fra poco Livelleremo Quindi insomma Posso anche usare Le abilità Sempre pure Usare Dove andiamo? A alta core Bene 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 Andiamo pure Di qua Che c'è da prendere Qualcosina Vai Vieta anima del tuono Per carità buona Adesso faremo sicuramente Un altro compartimento Oh ma c'è Nell'un nuovo Mi hai lavato con perlana E che cazzo ci faccio Questo qui Cazzo Tanto Scusate Perfetto Ho bisogno di Limitare i danni Ehm Andiamo Vai Accidenti Non ce l'ha dato Vabbè Vai Cerco di limitare Più che posso I danni Eh Questa Non ci voleva Proprio Eh Andata Vai Andiamo ancora Salta fuori Con questo Oh E vabbè È stato Molto gentile Da parte sua Questa mi sa Che ci vorranno Solo le magie Ehm Andiamo un po' Eh Boh Attacca ma Date Oh Beh Paparapassafata Cura Vai Perfetto Mi piace Mi piace Allora Facciamo così Niente Ehm Paparapassafala Qua Niente Andata malo Chi c'è cosa vuole Che cattivo La vita cacciatore Vediamo quali di tuono Neanche questo E' addormentato Il rampollo Lì Vediamo un po' La vita Furfanto Vai Incendio Eh ma insomma Che magia Ti ci vuole Teppi fatti fuori E' tua H E' Facciamo così E' un bel problema Ok Vai Beh 232 Buono Vai Ottimo Sei stata bravissima Anit Con la tua abilità Mi hai fatto Sognare Mamma mia Non l'avrò fatto Troppo Senta che ci ha addormentato Tutti eh Sto struttore Ma perché la barca Eh niente C'è la luce satia Però Ma quanta vita c'ha Questo coso qui Fa ricchi a quanto pare Mi ha addormentato Ok E sarà divertente Vai Brava Siete giù Tanit Ottimo Ok Ci hai fatto Ma per adesso Non ho trovato niente Poi Vediamo più avanti Però ci ha dato tanto Eh beh Mi fa piacere Sono cose che Come che faranno sempre piacere Sì Ci ha un po' baghettati Però insomma Alla fine Quello è Allora Adesso dove andiamo Penso proprio Che andremo di qua Adesso Vediamo se non ci fermano Ci fermeranno sicuramente Oh cavolo Vediamo se c'è qualcosa Solite cose Trovo una nuova Debolezza Ve lo dico Esatto Le debolezze Di Qua Sotto Sono di uno Della mazza Della bastone Di lei E dopo se vediamo Gli altri Non ne ho trovate altre Per il momento Oh si siamo quasi A Tyrion Bene bene Mi fa piaciore Mi fa piaciore Allora Due strade Eh Dove andiamo Ok Proseguiamo qui A est Andiamo giù Siamo alle pianure Ottimo 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 Benissimo Dai ci possiamo salutare qua Ragazzi Così Proseguiamo il prossimo video Come al solito Vi invito Lasciamo un commento Se mi piace Fammi sapere cosa ne pensate Per adesso vedo Salute la cima Ciao 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 Ciao